C'è chi sogna di comprare l'Alaska, chi sostiene che in Amazzonia l'incendi sia un'ordinaria amministrazione e non un dramma planetario, e chi invece nel nostro territorio, in particolare a San Daniele Po, ha intenzione di avviare una vera e propria rivoluzione ecologica che prevede il riforestamento per combattere l'emergenza climatica. Questa è la visione di Davide Persico, sindaco di San Daniele Po, che per mettere in atto il suo progetto ha già anche convocato una seduta straordinaria del Consiglio Comunale sabato 31 agosto per l'approvazione di una delibera con cui dichiareranno lo stato di emergenza climatica ambientale. Diventando precursori di un modello, auspica il sindaco, esportabile ad altri comuni. Il progetto ALBERO, acronimo di abbattere biossido di carbonio esercitando rimedi ovvi, consiste semplicemente nel piantumare alberi che producono ossigeno, assimilano l'anidride carbonica e svolgono un'importante funzione ambientale. E così a San Daniele saranno effettuate delle piantumazioni in aree pubbliche, private, ma anche zone demagnali che verranno chieste in concessione. Alberi verranno piantati in ogni angolo possibile per creare un polmone verde. Sempre nel progetto rientra poi un piano di implementazione dei parchi fotovoltaici che andranno ad aggiungersi ai tre già presenti in paese. Un esempio di grande civiltà, di presa di coscienza, di un grave problema che riguarda tutti e finalmente di lungimiranza.